carissimi pace del signore buona giornata oggi 29 ottobre sono le 7 del mattino leggeremo la breve ma intensa e bella epistola di paolo a filemole epistola unica nel suo genere perché di carattere personale epistola che costituisce un esempio di come un credente dovrebbe relazionarsi col prossimo perché come la lettera è intrisa di uno spirito di gentilezza d'amore al punto da far affermare a qualche teologo che essa rappresenta la messa in pratica del tredicesimo capitolo della prima corinzi il famoso capitolo sull'amore così dovrebbe essere il nostro modo di relazionarci con quanti sono intorno a noi fratelli e sorelle nella fede ma non solo colleghi di lavoro familiari amici paolo desiderava che onesimo un giovane che aveva conosciuto la grazia di dio tramite il suo ministerio fosse nuovamente accolto nella casa del suo vecchio padrone vala dire filemone il destinatario della lettera era accaduto che onesimo forse perché il suo padrone si era convertito al vangelo e quindi era diventato meno rigido aveva approfittato della bontà di questi ed era anche fuggito e probabilmente nel fuggire aveva portato con sé degli oggetti o e o del denaro che appartenevano a filemone il fuggetivo era arrivato a roma dove conobbe l'apostolo paolo e in seguito tramite la sua predicazione conobbe anche la grazia di cristo ed ora era diventato un cristiano un cristiano sincero che probabilmente desiderava anche riparare al male che aveva fatto e allora paolo scrive scrive a filemone che anche lui si era convertito grazie al suo ministerio e intercede per onesimo intercede perché vuole che questo servitore venga riaccolto in casa da filemone riaccolto come si riaccoglie un cristiano e ne fare questo paolo non usa autorità cosa che sarebbe stato anche legittimo ma fa appello alla gentilezza alla cortesia al rapporto fraterno che c'era tra lui e filemone stesso e questo è sicuramente un insegnamento importante che non dobbiamo mai dimenticare oggi molti battono i pugni e pretendono anche perché delle volte si sentono nella condizione di poter pretendere noi cristiani rigettiamo questi modi arroganti e presuntuosi di fare e preferiamo agire appunto con la delicatezza con cui paolo oggi nei confronti di filemone anche questa è una testimonianza della salvezza e della grazia che opera nella nostra vita e dell'amore di dio che è stato sparso nei nostri cuori mediante lo spirito e che guida i nostri sentimenti e le nostre azioni ricordiamoci che il modello di condotta a cui noi dobbiamo aspirare non è quello che ci viene presentato in questo mondo ma quello che ci viene illustrato dalla parola del signore e nell'esortare nel riprendere nell'incoraggiare usiamo sempre parole che siano veramente improntate a sentimenti di compassione di amore di amore sincero sia chiaro questo sarà un bene e sarà anche un balsamo che permetterà ai nostri rapporti di essere sempre belli freschi e ci eviterà di doverci vergognare delle parole dette dei comportamenti che abbiamo avuti abbiamo detto quindi di questa epistola che viene scritta col desiderio di intercedere per onesimo affinché venga riaccolto da parte di filemone e abbiamo detto che questa epistola contiene dei preziosi insegnamenti e si conclude con una espressione che troviamo al verso 22 o meglio più che un'espressione una richiesta vale a dire preparami un alloggio perché spero grazie alle vostre preghiere di esservi restituito e credo che questo desiderio di paolo è lo stesso desiderio che il signore gesù cristo ha riguardo a ciascuno di noi e cioè il desiderio di poter trovare nei nostri cuori un alloggio sì perché noi sappiamo che dio non abita nei tempi fatti da mano d'uomo ma che noi siamo per grazia il tempio di dio e gli alla chiesa di laudicea di al di laudicea diceva scusate il bisticcio di parole io so alla porta del cuore busso e signore vuole entrare vuole entrare nei cuori di ognuno di noi per potervi dimorare e albergare sta a noi aprire quella porta sta a noi offrire questo alloggio sta a noi permettere a lui di poter trovarsi a suo agio nella nostra vita e avere cristo come ospite nei nostri cuori può risultare delle volte qualcosa di inopportuno specie quando accarezziamo pensieri che non onorano il signore ma è la cosa più bella che ci possa capitare perché la compagnia di cristo la presenza di cristo porta gioia porta pace porta quel senso di appagamento che non possiamo trovare nessun'altra cosa e allora prepariamo un alloggio al nostro signore abbiamo il nostro cuore diamogli spazio diciamogli in questa mattina benvenuto signore nella mia vita regna nel mio cuore dimora in me perché io so che se io dimoro in te e tu dimori in me allora potrò chiedere qualunque cosa al padre tuo che è nei cieli nel tuo nome ed egli me la concetterà allora sono sicuro che sarò un tralcio che porta frutto un frutto permanente un frutto abbondante un tralcio che non sarà quindi tagliato ma potato per portare ancora altro frutto allora sono certo che la mia vita prospererà farà progressi continui e dentro di me si manifesterà la pienezza del tuo carattere potrò un giorno come paolo dire non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me preparami un alloggio diceva paolo onesimo e forse questo è l'invito che gesù stamattina sta facendo al tuo cuore egli durante questo giorno vuole essere con te ma vuole essere anche in te e vuole essere seduto sul trono del tuo cuore per poter avere il pieno controllo della tua vita e farti traboccare di gioia e di benedizione la sua pace la sua grazia il suo amore la sua presenza sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme